ciao a tutti sono yuri lombardo gioco a poker cash game prettamente da 12 anni tornei pochissimi diciamo mi trovo abbastanza bene adesso con questa formula che hanno fatto a mendrisio per me una zona di comfort impressionante ogni tanto vado ancora nei club perché comunque sono affezionato a vivere di poker non è semplice per i ragazzi giovani sconsigli abbastanza sconsigliato nel senso che comunque devi fare tante ore mette una pressione indifferente sempre studiare perché comunque sia tutti sono più bravi tutti migliorando e soprattutto dedicarsi dedicarsi tanto perché io per esempio faccio tantissime ore cioè non è una cosa semplice faccio di più nel weekend meno in settimana comunque non meno di 7 8 ore con le hanno giocato poco scarsi risultati quindi preferito smettere faccio qualche torneo quando riesco però no prettamente live online per decisioni soprattutto sulle carte mentre mentre live conoscendo le persone hai un sacco di informazioni quando giochi tante ore con la sua persona sai che non fa determinate mosse e quindi secondo me sono più facili proprio le decisioni quello che mi piace tantissimo è la puglia controllata quindi la mille e non di più personalmente per come sono fatto io decisioni semplicissime perché comunque sia quando affronti un coda l'affronti la mille e non di più mentre se sei a dinamica e dip devi saper regolare meglio le aperture sono tutte controllate non è magari determinati club si apre molto di più più complicata proprio da gestire la situazione multi way invece qui le tribette sono più corte puoi giocare molti più tribettati se sei diciamo competente secondo me ne viene fuori bene